Spinazzola avrà una nuova postazione medicalizzata fissa H24, mentre a Minervino Morge verrà istituita una postazione mobile con infermiere a bordo in condivisione con Spinazzola. Entrambe sono state previste per il periodo invernale che va dal 1 dicembre al 31 marzo. Lo ha deciso l'Aggiunta della Regione Puglia in attesa che vada in porto la riforma complessiva del sistema di emergenza-urgenza territoriale. Il potenziamento della rete continua, spiegano dalla Regione, adottando misure di carattere transitorio anche sulla base delle sollecitazioni delle comunità locali che sono state recepite dalla Direzione Generale della ASLBAT. A rendere necessaria la creazione delle due postazioni, proseguono dalla Regione la risposta non sempre agevole e tempestiva alle richieste di intervento indirizzate al 118, dovuta alla distanza considerevole dagli altri punti della rete territoriale di emergenza-urgenza e dai principali centri ospedalieri, oltre che ad una rete viaria che presenta diverse criticità. L'Aggiunta ha dato quindi mandato alla ASLBAT di avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle due postazioni.